Ciao ragazzi, buonasera. Oggi per la prima volta parleremo di un'ottica, ovvero faccio una piccola recensione su un'ottica per la prima volta. Diciamo che nel mondo dell'area compressa ormai diciamo che sono entrato dal vivo e devo dire che anche sulle carabine sto riuscendo anche a farmi una breve cultura. Allora, oggi parleremo dell'ottica Nico Stirling, modello Game King. Quindi questa è un'ottica che è la marca, la Nico Stirling e la serie è il modello Game King. Durante l'acquisto vi daranno questa scatola, quindi apro la scatola, vediamo che cosa ci teme. Allora, quindi durante l'acquisto vi danno questa scatola e come accessori vi daranno un panno per pulire le lenti dell'ottica e un piccolo manuale di istruzioni dove vi spiego come al massimo tarare le torrette e più qualche bipiede. Insomma, non abbiamo il binocolo. Allora, adesso prendiamo l'ottica dal vivo. Allora, quanto metto a posto questo, scusate, un attimo di pazienza. Allora, oltre al panno per pulire le lenti e a libertà di istruzioni, in dotazione avremo anche il coprilente. Togliamo il coprilente. Quindi questi sono i coprilenti, che abbiamo anche in dotazione, che è un obbligo avere il coprilente sull'acquisto di tutte le ottiche. Allora, adesso proviamo a vedere l'ottica nei minimi particolari. Allora, innanzitutto, come ho detto, l'ottica, come marca della Nico Stirling, è un'ottica piuttosto economica. Il prezzo, che io l'ho presa da Caspani, l'ho pagata sui 72€, solo che adesso mi sono accorto che il prezzo è aumentato e adesso costa 79€. Ovviamente c'è anche l'IVA che è inclusa. Allora, tornando ai particolari dell'ottica, abbiamo, innanzitutto, qui abbiamo il marchio della Nico Stirling. Poi, anche qui, abbiamo il marchio sempre della Nico Stirling, Nico Stirling la marca, poi qua dice Game King. Che altro più? Ah, qui abbiamo l'oculare, dove noi possiamo vedere l'ottica, voglio dire, dove possiamo vedere attraverso il reticolo. Quindi abbiamo l'oculare. Qui abbiamo questa ghiera, è praticamente la diottra. La diottra consente di mettere a fuoco il reticolo sul bersaglio. Voglio dire, il reticolo. Qui abbiamo invece la ghiera, la ghiera per consentire di ingrandire. Questa ottica, praticamente, ha massimo 16 ingrandimenti, quindi è da 4 ingrandimenti, che è il numero minimo. Poi abbiamo anche altri numerini, abbiamo il numero 16, che sta a significare che abbiamo fino a massimo 16 ingrandimenti. Quindi 4, 16 ingrandimenti, mentre la grandezza dell'obiettivo è di 44, quindi 4, 16 per 44 a o 1000 dot. Allora, oltre alla diottra che abbiamo spiegato che cos'è, quindi abbiamo sempre la ghiera dello zoom. Qua abbiamo le torrette. Le torrette sono di due tipi. Abbiamo la torretta della deriva, in cui permette di regolare la mira verso destra e sinistra. E poi abbiamo la ghiera, no scusate, voglio dire la torretta che regola l'alzo, che permette di regolare la mira da sopra verso sotto. Quindi le torrette, la ghiera dello zoom, la diottra. E infine qui abbiamo il correttore di parallasse, ovvero la ghiera di messa a fuoco. Quindi il correttore di parallasse serve per mettere a fuoco il reticolo sul bersaglio nelle varie distanze. Qui abbiamo anche i valori, i valori per consentire di mettere a fuoco a distanze specifiche, come ad esempio 200, 300, 50, 75, insomma 25 metri, 50 metri, 100. Quindi devo dire che questa qui è un'ottica piuttosto economica, devo dire la verità. Bene, ora che abbiamo detto, anzi vi ho fatto vedere i particolari dell'ottica, devo dire che per quanto riguarda il peso, non è molto pesante l'ottica. Il peso si aggira sui 538 grammi. Il numero degli ingrandimenti, vabbè, ve l'ho già detto poco fa, anche la grandezza della lente che è di 44 mm. Il prezzo, ve l'ho già detto anche, quindi che si aggira, anzi era sui 72 euro, ma adesso sono 79 euro. Per quanto riguarda le mie impressioni su questa ottica, devo dire che non l'ho ancora montata sulla mia carabina, perché ancora non ho gli attacchi, ma sto aspettando che mi arrivano gli attacchi che li ho presi a parte. Ah, per quanto riguarda i difetti di questa ottica, devo dire che la fregatura è che nelle ottiche della Nico Stirling hanno il difetto di essere troppo delicate. Cioè, mi spiego meglio, allora, il tubo, i tubi di questa ottica della Nico Stirling sono più o meno delicati, perché nel momento in cui mettiamo l'attacco e stringiamo troppo forte, corriamo il rischio di poter ammaccare il tubo. Diciamo che questo non è un problema, perché è un difetto di fabbrica di tutte le Nico Stirling, perciò io consiglio di non esagerare molto né stringere gli attacchi. Però, tutto sommato, è anche un'ottica economica, ma buona. Quindi qui, insomma, ripeto, l'oculare, l'obiettivo, insomma, le lenti sono molto resistenti, belle dure. Per quanto riguarda alcuni consigli che posso darvi, se voi puntate su ottiche del tipo professionali, allora posso anche consigliarvi un'ottica molto costosa, tipo, magari per quelli che coloro vogliono fare le gare di file target, allora consiglio meglio una Bushnell, che la più economica si aggira sui 700 euro. Poi abbiamo anche le ottiche della Swarovski, che quelle sono davvero sul settore professionale, che costano sui 2000 euro, le Swarovski. Le Nico Stirling diciamo che vengono usate molto per quelli sul settore amatoriale, perciò non ci sono elevati problemi. In alcune ottiche, comunque, non è detto che il correttore di parallasse si trova posteriormente all'obiettivo, ma può anche trovarsi anche sulla torretta, che viene chiamata anche terza torretta. Abbiamo anche altre ottiche economiche che possono anche soddisfare molto le vostre esigenze, tipo ad esempio la Blau Optic, che alcune hanno anche il reticolo illuminato, e possono anche avere il reticolo inciso sulla lente. Mentre, su questa che è sulla mia Nico Stirling, devo dire che il reticolo non è inciso sulla lente. Ah, qui invece manca il riostato, il riostato praticamente dove si inserisce la batteria per poter illuminare il reticolo dell'ottica. Mentre io l'ho comprata normale senza il reticolo illuminato, giusto così per risparmiare. Se magari un domani vedo di vendermela, non lo so, penso che per me sarà difficile. Magari, ma anche vada, mi comprerò anche una Blau Optic, e anche di quello posso anche farvi una breve recensione. Insomma, io, l'ottica ve l'ho presentata, mi sembra che ve l'ho presentata, come si deve. Io spero che sia stato abbastanza chiaro, e che, insomma, non vi ho messo qualche dubbio a voi. Insomma, di ottiche non capisco molto, però devo dire che qualcosina me la sono pure imparata. Vabbè, insomma, spero di essere stati sorrenti nei vostri confronti. L'ottica a me piace molto, spero che qualcuno si sia interessato e magari possa anche comprarsela per la vostra carabina. Vabbè, io vi saluto. Se avete domande da farmi, contattatevi benissimo, contattatemi pure. Insomma, siete liberi di chiedermi quello che volete. Salve e buonasera a tutti quanti.